Mary Jane ASMR Ciao Com'è stato ragazzi? Spero tutto 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 molto molto bene allora ragazzi oggi ci rilasseremo con un po' di drinker che ci faranno dormire meglio iniziamo dal trigger e visual trigger dei guanti che a me piace moltissimo spero dalle vostre parti vada tutto 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 molto bene mettetevi pure comodi rilassati e sereni e non dimenticate di indossare gli auricolari iniziamo a casa Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Ticca, 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 ticca. ticca 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 e 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 passiamo ad un altro trigger trigger un po' più natalizio e sto parlando di questa penna e direte perché penna natalizia? beh sì perché hai i campanellini ai campanellini e e e e così e e si Grazie a tutti S M R Grazie a tutti. 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 Distribuire, distribuire la crema sul vostro viso. Mediata sensazione di freschezza. Vi siete già addormentati? Arrivati a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rilassati. Rilassati. E ci rivediamo. Ci rivediamo. Grazie a tutti.